Oceani, essendo due vi preparate, io vado a salutare, intanto Boccassi vi ringrazio, Dottor Neraveli, non so se chiederle di portarmi qua la prossima volta un elefante o moire, comunque vedrei, se viene siamo felici, grazie per l'avvento, il signor Ivone, che è già un nome a proposito di cose particolari, grazie per il buon lavoro con gli sposi, insomma siamo in qualche stagione, matrimoni ne abbiamo? Ce ne sono? Ce ne sono, grazie naturalmente a Valeria Sorli perché sei venuto tu e perché ci hai contribuito, certamente. Allora volevo dire una cosa a invitarti, questo è un invito pubblico, non è una domanda di matrimonio perché so che sei già impegnato, non lo farei mai, tu sai che io ho appena finito di scrivere un film che è stato tra l'altro sceneggiato da uno sceneggiatore di Alessandria, ci sono tanti attori importanti già nel cast, c'è Giorgio Rosperi, Enrico Beruschi, ci sarà Maurizio Di Francesco, eccetera 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 e vorremmo anche te perché rappresenti un po' il fulcro di Alessandria, del nostro territorio perché verrà in parte girato anche nel territorio quindi tra Alessandria, Casale, Asti e tu sei proprio un personaggio, il titolo sarà che spettacolo la luna, è come che spettacolo, un classico, il Rosario. Grazie a Niccolò Maimone, grazie a Niccolò Maimone, grazie, verrà trovate che voglio vedere, voglio vedere la tua cameretta, voglio vedere i poster che hai, cos'hai, che hai i poster? No, io vi voglio vedere Parisi, tu non cerca bene, e lei, io ce lo sono un po' datato. Grazie naturalmente a Marco Santi, forti saluti alla Caritas e grazie naturalmente a Giorgio Baracco, l'Alto 521, via Verona, anche l'opera di Sant'Evolo, Gelli, Nataliani, l'ultima volta che sei venuto qua di Sant'Evola Stata, ma sono una storia che cosa ci darà stasera, ma noi lo vogliamo sapere, signori, questa sera, non siamo in tantissimi, ma abbiamo avuto l'opportunità, credo, di seguire una puntata molto particolare, come l'apertura di questo salotto, l'arma in preziosita come ciliegine sulla torta, Paolo Macciola! Porta i saluti del Salto di Madogno a tutta la vera, Franco Biacivello! e signora, concorra signori, grazie a Franco D'Agosto, grazie al nostro tecnico che questa sera ti ha dato una mano, a Ministero Comunale, Fiore dello Specchio, Profumina Gardegna e il patrocinio della Fondazione Cassi di Nostalco sono quelli che ci hanno dato una mano, grazie naturalmente a Doni Frugina, a Francesco Castellari per il contributo, video, foto, eccetera, Franco ti lasciamo, vi lasciamo, la ribalta, non andate via, abbiamo ancora... Lissondria, America. Lissondria, America, Brasile e Varese. E Varese. Ok, abbiamo veramente buono, noi ci ritroviamo il mese prossimo, grazie per aver partecipato, vogliateci bene! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!